ciao benvenuti fanciulle fanciulle oggi andiamo a vedere l'oroscopo per l'intero mese di ottobre 2022 lo faremo grazie all'astrologia andremo a vedere le stelle che cosa ci predicono e poi andrò ad interrogare anche i miei tarocchi ti invito a guardare l'oroscopo quindi il video per il tuo segno zodiacale per la tua luna e per il tuo ascendente se vuoi dare uno sguardo anche alla sua venere benvenga ma comunque sono questi tre i pilastri sole luna ascendente poi metti tutto insieme ti lascio giù nella descrizione del video sotto al titolo del video trovi tutte le informazioni per i mazzi di carte che incontrerai che vedrai in questo video che ho creato io fra le altre cose ok andiamo a vedere quindi il mese di ottobre 2022 partiamo ciao leone benvenuto vediamo partiamo subito dall'oroscopo vediamo un po l'astrologia i transiti planetari per ottobre poi passiamo a leggere anche i miei tarocchi insomma a vedere le carte così scendiamo nei dettagli nei particolari allora leone qui cosa dicono le stelle beh ottobre secondo me un mese positivo un mese positivo sia perché c'è questo marte ancora in gemelli e tu te lo porterai avanti fino a marzo quindi è un transito molto bello molto positivo per te che ti donerà sicuramente energia grinta voglia di fare determinazione comunicazioni importanti movimenti persone intorno a te che senz'altro ti possono supportare aiutare spronare spi insomma qui posso parlare tre giorni quindi bellissimo transito ma oltre a questo giovena riete che te lo dia a fare qui per un anno intero tu avrai giove pianeta della fortuna del benessere della gioia anche della giovialità intrigono alto sole quindi bellissimo ma i transiti specifici per ottobre sono venere quindi sia venere sia marte a in aspetto positivo al tuo segno zodiacale e mercurio che anch'esso entra in bilancia oltre al sole che è tutto il mese d'ottobre in bilancia quindi qui leone datti la mossa se vuoi qualcosa vai sbattiti datti da fare vattela a prendere perché ottobre è veramente veramente positivo positivo per te quindi qui sicuramente tu avrai le tue belle opposizioni ci sarà qualcuno che intenderà romperti le scatole urano dal toro e saturno opposto al sole lì rotture le ci sono e va va bene mettile da parte ma c'è anche tanto di bene sole mercurio venere marte giove tutti che intrigono chi in se stile quindi via ragazzi se no davvero il che si vuole da sto cielo ora poi andiamo a vedere i tarocchi andiamo più nei dettagli però insomma qui guarda a cominciare sicuramente dai viaggi dagli spostamenti dalle comunicazioni dalle amicizie dai divertimenti dalle nuove conoscenze da magari l'avere qualcuno nel cuore che ci interessa che ci sta a cuore scusate il giro di parole che si potrebbe fare avanti o comunque si potrebbe rendere disponibile verso di noi in modo carino e qui chi più ne ha più ne metta quindi qui robe di come si dice insomma come si può dire robe contrarie diciamo non ne vedo sinceramente ripeto c'è urano in toro e saturno in acquario sono pianeti lenti generazionali che senz'altro le sue problematiche nella tua vita se le portano io non te lo nego ma ci sono anche tutti gli altri pianeti che in questi mesi come ti stavo dicendo giove per un anno intero marte almeno fino a tutta la fine di marzo venere ora tutto ottobre mercurio il sole qui tu mi capisci sono cose positive quindi come ti ho detto aspettati delle comunicazioni che ti faranno piacere personaggi che tu potresti conoscere amicizie che si fanno più care più carine gente che ti piace che tutti potresti conquistare quindi anche nuove conquiste viaggi spostamenti il cambiare la macchina e motorino il cellulare nuovo cioè anche godere di qualche lusso in più anche nel mese di ottobre via dicendo ma andiamo a vedere un po i particolari un po i dettagli con le carte useremo il mio nuovo mazzo tarocchi volume 2 che è l'ultimo nato e gli oracoli volume 3 anche essi sono appena nati sono i due mazzi nuovi oltre all'oracolo dell'amore ma vabbè quella è un'altra cosa partiamo dagli oracoli e chiediamo per il tuo mese di ottobre va bene ottobre per il leone come sarà il mese di ottobre 2022 per il segno geriale del leone segno zodiacale del leone la riservatezza come prima carta ok vediamo cos'altro per ottobre l'anima che ti ho detto l'anima gemella venere e marte a favore e tant e giove a favore e tanta roba è leone comunque vediamo cosa ci dicono loro e il potere nel taglio nel taglio tagliato con la libertà ma allora qui letteralmente ci si potrebbe concedere anche una qualche libertà nel senso che qui tu potresti avere un incontro clandestino se lo dio siccome va detto quindi un incontro clandestino o perché tu sei sposato sposato perché sposare l'altra persona o perché che ne so io non tu vuoi fare troppa pubblicità tu lo saprà feri perché per i come fatto sta che qui ci potrebbe essere un incontro molto molto bello con questa persona persona come ti ho detto che potrebbe essere impegnato potresti esserlo tu comunque non importa qui c'è se non conosci nessuno qui tu lo potresti conoscere questa persona perché qui c'è anche questo incontro proprio nel senso di novità un qualcosa che entra nella tua vita anche quando meno se l'aspetti devo dire perché insomma qui con questo marte questa venere marte dai gemelli venere dalla dalla bilancia e giove in ariete cioè qui qui insomma un qualcosa di fatale potrebbe accadere vediamo un po anche i tarocchi cosa giungono capito quindi qui tu potresti proprio conoscere una persona e che ti potrebbe insomma proprio a interessare infiammare eh accidenti qui ci sta alla grande qui un incontro c'è quindi o la persona tu la conosci di già o tu l'andrai a conoscere in questo mese di ottobre qui i discorsi stanno un po' i posti allora ottobre 2022 leone leone ottobre 2022 e 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 quante carte allora è volato lotto vedi lotto di denari gli amano queste carte sono guarda ecco amanti sono favolose mi rispondono che boh è una meraviglia l'imperatore otto di denari amanti imperatore cos'altro per il leone per il mese di ottobre ottobre 2022 leone l'asso di bastoni ancora una carta l'asso di bastoni ancora una carta novia il quattro di bastoni e il due di coppe allora dobbiamo parlare allora ve la devo spiegare eh allora ve le devo spiegare ste due carte ecco ti devi preparare a questo ok ok ma io non ho nessuno ho 70 anni non ho nessuno benissimo tu avrai una persona che ti vuole bene a cui vuole bene può essere un figlio un nipote un'amica un amico molto caro con cui tu potresti passare dei momenti carini di 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 serenità e via andare ok quindi se è questo il tuo caso traduci un po' in questo senso altrimenti cioè qui te l'ho detto qui c'è sicuramente a un incontro passionale quindi tu lo capisci che vuol dire passionale va bene io non posso esprimermi troppo se no youtube mi banna va bene un incontro passionale con questa persona con cui appunto tu potresti avere insomma in quella maniera va bene persona che potrebbe non è detto al 300 per cento eh anche perché non ci sono carte di nascondigli di cose però io qui sinceramente io qui ci intravedo un'altra persona cioè tu potresti avere a che fare incontrare avere a che fare con questa persona che non è una persona libera o te non sei una persona libera o tutti due non siete persone libere questo è quello che vedo va bene quindi un incontro eh di questo tipo ancora qui c'è un qualcosa di molto bello di molto positivo magari proprio una scelta una decisione da fare su il lavoro ok quindi qui tu potresti avere o una nuova proposta o semplicemente proprio iniziare un qualcosa di nuovo su il lavoro o addirittura proprio un nuovo lavoro anche questo vedono anche questo vedono queste carte ti vedo a giro per locali quindi sicuramente qui ci saranno delle uscite con gli amici o ritrovarsi con qualcuno o ancora il lavoro come ti stavo dicendo qui è molto importante qui ci può essere anche una riunione di lavoro con altre persone molto importante in cui verrà deciso qualche cosa di importante ok sì qui durante questo mese di ottobre viene stabilito qualche cosa qui qualcosa di molto importante viene stabilito che sia il lavoro che sia sull'amore c'è questo incontro o più di uno visto si sta parlando di un mese con questa persona legata a te da un vincolo di affetto di amore di passione insomma dipende un po' dalla sua dalla sua dalla sua situazione personale mi vedete guarda i sette di coppe del taglio che mi è volata la temperanza ma sono belle queste carte sono un po' orgogliosa la temperanza il tre di denari il quattro il quattro di coppe e il cavaliere il cavallo di coppe qui c'è un qualcosa di di molto positivo che arriva di molto positivo che arriva sicuramente che siano come ti ho detto incontri notizie e quant'altro decisioni prese riunioni e proprio un incontro bello bello forse più di uno eh con questa persona proprio bello proprio bello bello quindi aspettati la telefonata la comunicazione con questa persona no ora voglio dire io vediamo i segni zodiacali per il leone allora qui c'è senz'altro il sagittario coinvolto il capricorno i pesci ho lo scorpione il cancro con quali segni avrà più a che fare il leone questo niente il leone l'acquario un altro poi mi fermo eh allora cancro sagittario acquario leone pesci capricorno scorpione tiriamone un'altra poi mi fermo il toro e i pesci che vengono riconfermati va bene questi segni più evidenti quindi fammi un po' sapere di che cosa ti hanno parlato le stelle con l'astrologia e di cosa ti stanno parlando le carte qui guarda leone il mese d'ottobre io lo vedo proprio wow proprio un mese di cui tu ti ricorderai ma questo è qui potrei parlare altri quattro giorni però insomma fermiamoci qui poi settimanalmente con le previsioni vedremo ancora naturalmente quello che tu ti puoi aspettare da questo mese d'ottobre va bene leone io ti ringrazio per essere stato qui con me e ti aspetto ovviamente al prossimo video ciao eccoci qua vi lascio ai miei vi no eccoci qua